Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Così il generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparvi in sogno un angelo del Signore gli disse, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Egli addarra alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si confisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vecine concepirà e darà la luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destrò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Parola del Signore.